Le tute blulecchesi approvano a larghissima maggioranza il nuovo contratto nazionale. Le consultazioni condotte dai sindacati in 149 aziende del nostro territorio hanno partecipato 6.254 operai su oltre 9.020 diritto e 614 impiegati su 1.293 aventi diritto. Complessivamente hanno votato poco meno di 7.000 lavoratori su 10.000, oltre 6.700 i sì a fronte di 77 no, 51 schede bianche e 9 nulle. Il rinnovo contrattuale, oltre ad un aumento salariale a partire da 100 euro, porta anche diversi benefici ai lavoratori. Una consultazione dall'esito importante spiega Maurizio Reggia, segretario della FIOMCGL Lecco. A questa fase hanno partecipato ancora più persone rispetto all'assemblea pre-covid e questo risultato ci rende soddisfatti. In questi incontri gli argomenti che hanno suscitato maggior interesse sono la riforma dell'inquadramento e la formazione. Questo accordo, commenta Enrico Vacca, segretario della FIMCIS a Monza Brianzarecco, oltre a un importante risultato economico porterà alle lavoratrici e lavoratori metalmeccanici significativi miglioramenti normativi a partire in primis dalla riforma del sistema di inquadramento professionale. Con il nuovo contratto, aggiunge Enrico Azzaro, segretario della WIMCIS, abbiamo realizzato l'aggiornamento e la revisione di questo aspetto, adeguandolo alle profonde trasformazioni tecnologiche e organizzative avvenute dal 1973, data a cui risale l'attuale inquadramento. Inizia una nuova sfida nei luoghi di lavoro dove, sino oggi, erano le imprese a decidere il percorso meritocratico e professionale. Da ora in poi la musica cambia.